Come promesso cercherò di realizzare qualche video guardante il genere ucronico, sia per quanto concerne romanzi, film e serie tv, e oggi inizieremo da quest'ultima categoria, le serie tv. L'Ucronia credo non ci sia bisogno di spiegarvelo se siete qui, comunque brevissimo assunto per i non addetti ai lavori, è quel genere della fantascienza che ipotizza uno svolgimento della nostra storia in modo differente, a seconda di alcuni punti di divergenza appunto dalla storia come noi la conosciamo, e da quel punto lo scrittore o regista sviluppa la sua opera ripensando la cronologia umana, terrestre diciamo, in modo differente. L'Ucronia più diffuse, più conosciute sicuramente anche dai profani, sono quelle riguardanti la seconda guerra mondiale, ovvero se avessero vinto le forze dell'asse invece che gli alleati, e da questo punto di domanda, da questa ipotesi, si sviluppano appunto libri, romanzi, film, fumetti, ci sono anche molti fumetti, cercherò di parlarvi nelle prossime puntate di alcuni fumetti ucronici anche, ma esistono anche ucronie di moltissimi generi diversi, perfino ucronie, e magari parleremo anche di queste, che ipotizzano una perdurare della specie dei dinosauri, che è sopravvissuto il cataclisma che portò alla loro estinzione, in questa ipotesi ucronica, i dinosauri si evolvono, diventano umanoidi, mentre gli umani, gli Homo sapiens sapiens, rimangono primitivi e rimangono secondari rispetto alla razza civilizzata di questo mondo ucronico, che sono appunto gli eredi, diciamo, dei dinosauri, l'evoluzione intelligente dei dinosauri, ma sto già divagando. Questo, insomma, per inquadrare l'ucronia, il what if, come dicono nei paesi anglofoni, per inquadrare di cosa si tratta, anche se, ripeto, credo che lo sappiate tutti. L'ucronia è stata sdoganata raramente, anche se ha un nutrito numero di interessati, nell'ambito, però, della narrativa di genere, di immaginazione, nella fantascienza, insomma. Ultimamente, però, negli ultimi quattro anni, grazie alla serie tv L'Uomo nell'Alto Castello, sicuramente molte persone che non avevano mai sentito parlare di storia alternativa sono venute a conoscenza di, appunto, di questo genere, di questa tipologia di opere. Ed è proprio con L'Uomo nell'Alto Castello che inauguro la prima puntata di questo ciclo di brevissimi video su Ucronia e what if, appunto, anche se c'è stata una puntata a zero che trovate sempre nel mio canale, ovviamente, chiuso parentesi. Ora, L'Uomo nell'Alto Castello è basato su un romanzo di Philip Dick, La Svastica nel Sole, che è stato pubblicato nel 61-62, adesso non ricordo bene, comunque, in quegli anni lì, e che è stato, doveva essere il primo di una serie o comunque viene considerato un romanzo incompiuto perché, appunto, lascia il finale un po' in sospeso e, praticamente, non ci ha dato sapere dove voleva arrivare Dick nel suo quadro cronico. Anche se circolano dei capitoli apocrifi, due, per l'esattezza, di quelli che dovevano essere il seguito della Svastica sul Sole e che, però, non è stato mai realizzato, appunto. L'Uomo nell'Alto Castello parte da questo presupposto pur discostandosi in molti punti, soprattutto nei personaggi, nei protagonisti, dallo romanzo di Philip Dick e prosegue per la sua direzione realizzando quel quadro che viene abbozzato nel romanzo La Svastica sul Sole e portandolo avanti, portando avanti, appunto, quello che è un romanzo sì ucronico di fantapolitica, quindi, diciamo così, ma anche di fantascienza perché, tanto nella Svastica sul Sole quanto nell'Uomo nell'Alto Castello, serie tv, si ipotizza l'esistenza di mondi paralleli ma tangibili tra di loro, ovvero nel mondo dei protagonisti le forze dell'asse hanno effettivamente vinto la seconda guerra mondiale e dominano sul mondo, si spartiscono buona parte dei territori conquistati o arresesi durante il conflitto, il secondo conflitto mondiale. Quindi abbiamo da una parte l'impero giapponese e dall'altra il Reich tedesco, il Reich millenario tedesco. Nel libro di Dick c'è anche una presenza a noi nota, ovvero l'impero fascista, che tuttavia, piccola cosa, essendosi comportata non con molta gloria nella guerra, l'Italia è sì parte delle forze vincitrici, ma ha un limitato controllo su alcuni territori dell'Africa e su brandelli d'Europa, ma in realtà non conta granché se non come partner appunto del Reich tedesco. Questo è quanto. Mentre nella serie tv l'Italia praticamente non viene quasi mai citata. La serie tv si concentra sugli Stati Uniti, sono spaccati in due, tra dominazione giapponese da una parte e dominazione tedesca dall'altra, con in mezzo gli stati cuscinetto delle montagne rocciose. Nel libro di... nel romanzo di Dick abbiamo altri dati sull'ambientazione, sullo scenario cronico che la serie tv fa vedere solo a tratti, concentrandosi appunto soprattutto sul territorio nordamericano e in parte su Berlino. Mentre per esempio nel libro veniamo a sapere che i tedeschi hanno tentato di sterminare le popolazioni nere dell'Africa, hanno prosciugato il Mediterraneo grazie all'energia atomica, hanno effettuato diversi voli spaziali, eccetera, eccetera. Insomma ci sono dei dati dati interessanti che io ritengo la cosa migliore, ovvero il world building, la costruzione del mondo cronico, ritengo la cosa migliore assolutamente del genere cronico, ancor più dei fatti narrati. E in questo per esempio è molto bravo un autore su cui tornerò sicuramente, perché Harry Tarteldov è il maestro per me assoluto dell'ucronia, anche se il suo stile è molto accademico, può non piacere perché è sostanzialmente spesso privo di azione, privo di eroi, ma è eccezionale nel world building. chiusa anche quest'altra parentesi. L'uomo nell'altro castello ha appena visto la sua conclusione con la quarta stagione, la quarta stagione che si è... che si potete vedere su Amazon Prime e che io ho appena finito di vedere e di cui ho letto pareri sostanzialmente positivi, accezion fatto per il finale che, cercherò di evitare spoiler, viene giudicato un po' troppo frettoloso perché molti personaggi principali vengono sostanzialmente risolti le loro storie in un limitatissimo periodo di tempo, in pochi minuti diciamo, ecco. E altre critiche che ho letto riguardano la presunta facilità estrema e quindi ritenuta inverosimile con cui la resistenza americana riesce ad avere una meglio sul Reich americano, sui nazisti americani. Tuttavia io trovo che questo si è giustificato da ragioni di tempo e da ragioni di budget. Ragioni di tempo, però vi ragioni perché non avremmo potuto senz'altro sperare di vedere una guerra civile americana per intiero perché ci vorrebbe una serie a parte, magari uno spin-off, qualcosa del genere. Ragioni di budget, però altrettanto però aveva ragione perché per mettere in piedi una guerra come avrebbero voluto vedere in molti diffusa tra le varie città italiane ribellati sinazisti ci sarebbe voluto un budget molto più elevato e un altro tipo di produzione non televisiva, ecco diciamo. Comunque trovo critiche abbastanza sciocche perché molto del lavoro va all'immaginazione dello spettatore come quella del lettore, ovvero se la serie si focalizza sugli eventi e cercherò di non spoilerare che conducono alla decapitazione della leadership del right americano si può immaginare che nel resto delle altre città altri partigiani facciano lo stesso con i gerarchi locali senza bisogno di mostrare tutto, senza bisogno di mostrare città per città anche se magari sarebbe bello cosa è successo chi si è ribellato e come si è svolto la ribellione e queste cose qui insomma. Quindi secondo me il voto è positivo il voto è assolutamente positivo sono contento che una serie ucronica sia stata sdoganata al grande pubblico che l'ucronia sia stata sdoganata al grande pubblico attraverso un romanzo che non è forse tra i miei preferiti ucronici forse perché è incompiuto ma che sicuramente è pregevole ed è di ottima qualità. Chiudo citando quello che invece è secondo me il mio libro no è il libro non il mio libro è il libro ucronico che rimmagina la vittoria nazista migliore mai scritto e pubblicato ed è Fatherland di Robert Harris lo vedete qui che a suo tempo ebbe una gloriosa storia editoriale e che tuttora infatti è facilmente reperibile in molti formati e vi pubblicherò il link ed è ambientato in un 64 in cui Berlino è la capitale di un impero che si estende dal Reno gli Urali con gli Stati Uniti d'America liberi a differenza dell'Uomo nell'Alto Castello ma neutrali e grazie alla loro neutralità o per colpa della loro neutralità appunto la Germania ha vinto la guerra schiacciando l'Unione Sovietica e dominando gli inglesi e chiunque altro si opponesse appunto ad Hitler è un thriller a differenza dell'Uomo dell'Alto Castello non ha elementi fantascientifici e fantastici perché non parla di mondi paralleli non parla di contatto tra realtà parallele ma è pura fantapolitica pura ocronia ed è eccezionale ne è stato tratto un film diversi anni fa però un film a bassa produzione l'unico pregio era l'attore principale che era Rutger Auer con i panni del protagonista che io tuttavia finché non vedo da anni e di cui ho ricordi molto in chiaroscuro e credo che ben pochi si rammenti di questa pellicola il che mi fa pensare che non sia non sia eccezionale insomma non sia un granché chissà mai e sarebbe bello che a seguito del successo sicuramente successo televisivo per così dire come serie tv dell'uomo dell'altro castello qualche mega produzione pensasse un bello remake di Fatherland che sicuramente merita un bel filmone fatto come si deve e che sdogani ulteriormente la storia alternativa così che magari un domani si possa passare anche dallo scenario nazisti seconda guerra mondiale ad altri scenari ucronici altrettanto interessanti di cui appunto parleremo nelle prossime puntate per ora però è tutto spero di avervi dato un quadro d'insieme di questa rubrica video sull'ucronia e di aver dato un giudizio che possa invogliarvi ed avvicinarvi a questo genere se ancora non lo avete fatto a presto